Musica 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 Grazie a tutti. Sì, esattamente, poi è partito e è andato a Los Angeles e ora, dopo qualche anno di lavoro in alcuni studi americani, adesso ha una sua attività. Oggi ci presenterà un contributo importante sulla città di Los Angeles e poi anche sui suoi lavori. Io non voglio aggiungere altro, vedrai la parola a Marcello. Ok, prima di tutto grazie mille, sono contentissimo di essere qua e mi fa anche un po' specie perché adesso ho capito che non c'è più a Bovisa, noi eravamo i primi a essere laureati come Bovisa, adesso non c'è più, ma niente, è sempre architettura. Io ho preparato una lezione che non è una lezione, c'è poco da insegnare, però è più una disordinata discussione riguardo Los Angeles, che è una città un po' paradossale, ma credo che sia particolarmente interessante perché anche adesso sento che tutti qui vogliono parlare della periferia, Los Angeles è solo periferia, diciamo come piccola introduzione. è una città, non so se qualcuno di voi è mai stato a Los Angeles, ok perfetto, Los Angeles è proprio brutta, però è così brutta che bella, perché è vero, io non vorrei adesso, io vivo là da 15 anni e non cambierei con nessun'altra città, a dire la verità, e ripeto, è così brutta che bella, perché non lo so, è come un paio di jeans, che in teoria è un tipo di pantalone brutto, però alla fine della fiera è quello più funzionale. Allora, la prima, faccio, ripeto, ho preparato questa cosa qui un po' come una piccola discussione, un po' caotica, ogni tanto vedete qualche dipinto, un modellino che non c'entra niente con quello che faccio vedere, perché così mi ricordo dove sono e che devo cambiare l'argomento. Allora, partiamo da qui, qui vedete tutta la città, che è un'immagine speciale, perché diciamo, qui c'è il segnale di Hollywood, che per la gente di Los Angeles è importante, un piccolo aneddoto, il segnale di Hollywood era una volta Hollywoodland, cioè vendevano, ho vinto a parlare inglese, ma devo concentrarmi adesso, Hollywoodland vendevano i terreni sulle colline di Hollywood, poi, quindi la sola pubblicità, poi il land è caduto per una slavina, diciamo, è rimasto Hollywood, allora come segno del destino l'ha tenuto ed è rimasto questo monumento. Comunque, questa qui è tutta Los Angeles, come vedete è una città-territorio, c'è questa piccola down, piccola insomma, una piccola downtown, la cosa più importante per me da comunicare, che è difficile da capire, è la grandezza, e come, diciamo, un laboratorio di urbanistica come il vostro, secondo me è importante capire la dimensione delle cose, alla fine della sera, il, il, dico sì, partire la sera, perché sono qui per le storie del mobili, alla fine della sera, per cui, mi viene da dire alla fine della sera, però, il, diciamo, la cosa più importante è la dimensione della città, capire la dimensione, la differenza di una città come Los Angeles, da Milano, dalla realtà che viviamo noi, per cui, diciamo, per esempio, comincio con queste slide, voi vedete questa città che è proprio una cosa immensa, è una città fatta per le macchine, praticamente, ed ha un'organizzazione completamente diversa dalle nostre città. Ecco, questa è una cosa importante che volevo far vedere, queste sono immagini di Google, che è tra l'altro un esercizio interessante da fare, quando si vuole capire, ripeto, solamente le distanze e le misure, perché tutti hanno nel cervello cosa vuol dire un metro, due metri, o 13 centimetri, 50 centimetri, ma, per esempio, pensare a visualizzare... Allora, ecco qua, Los Angeles sono tutti tetti, quindi non c'è il verde, la campagna come da noi, è veramente la città, la città è stella. Allora, poi andiamo avanti, eccolo qua, adesso zoomiamo un pochino, un pochino, questa qui, adesso vedete ancora tutta la zona di Los Angeles, la parte più verde, chiaramente, Beverly Hills, vedete... adesso faccio un'altra cosa, così mi sento meglio, così... Allora, un pochino... Los Angeles è praticamente fatta su degli assi principali, che sono Wilshire Boulevard, nel centro di Los Angeles, Sunset Boulevard, che è sulla... chiamiamola... qui lungo le colline, poi Santa Monica Boulevard, che è la fine della Route 66, che va fino al mare, e poi tutte le cose attraverso, questi sono gli atti principali, e poi invece il sistema delle freeway, che è veramente una cosa incredibile. Tra l'altro, adesso zoomo ancora un pochino e vedete come è diverso dal tessuto di Milano, adesso nessuno ci... noi non ci pensiamo mai a queste robe qua, però... veramente si possono fare tanti ragionamenti, soltanto guardando le cartine così. Tra l'altro, vedendo Los Angeles, sono tutti i tetti bianchi, adesso quando andiamo a vedere Milano, vedete tutti i tetti che sono rossi, adesso... e questo cambia tutta l'attitettura, tra l'altro si può dire... si potrebbe addirittura descrivere le città guardando i tetti, in un certo senso. questo qui è una zona importante, perché è Sunset Plaza, che non è una plaza, praticamente è il centro di Sunset Boulevard, quindi è questa cosa qua, si chiamano Sunset Plaza, è bellissimo perché è Sunset Plaza, perché è Los Angeles, però... tecnicamente, terribile, il... il... tutta questa parte qui sono le... le colline di West Hollywood, e un pochino più in qua... comincia poi... comincia poi a vedere l'idea. Adesso vado un po' più veloce, se no non ce la facciamo. Ecco qua, questo è il mio dipinto, adesso devo cambiare il discorso. Allora, il... queste sono delle immagini che vi faccio vedere per comparare Los Angeles e Milano. Allora, questa è la zona... la zona dove vivo io, che è... che praticamente è Hollywood e West Hollywood. Alla stessa scala, questa è la stessa zona, un po' più zoomata. Questa è Gallarate, dove vivevo, qui. Quindi, vedete la... 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 la differenza. In realtà, è più o meno... non so come dire... è più o meno... ehm... come organizzazione è più o meno la stessa... diciamo... Hollywood sta a downtown Los Angeles, che in teoria è al centro, come Gallarate sta al centro di Milano. Però qui vedete come... come è diversa... l'organizzazione. Cioè, questa è la stessa scala di questa foto qua. Quindi i tetti, le dimensioni delle case, i lotti, le strade... chiaramente tutto più dritto. È anche un casino anche in Gallarate, in queste nostre città, non è che siano per forza... sono... sono belle, però... sono un po' anche allenate. Eccola qui. Questa qui è sempre Gallarate, comparata a... questa foto. Esattamente la stessa scala. Quindi uno... e due. Quindi le dimensioni... ripeto, le dimensioni sono... sono veramente... veramente importanti. è anche cercare di capire... un esercizio, diciamo, è interessante... capire la distanza delle strade. Io la prima volta sono andato a Los Angeles, ho visto... ehm... e adesso qua parliamo a Milano... con la stessa scala. Quando si arriva ci vedono queste strade che sono 5, 6, 7 corsie. E... rispetto alle nostre sono due corsie. Questo cambia tutto, cambia il... la dimensione... la... la dimensione umana, anche come uno può fare un edificio. Cambia completamente. Però sono cose che... il 90% delle volte i designer, gli architetti non... diciamo... non ci si pensa. Al di là di... di altre cose. Ecco, questa è la piazza Duomo. Ripeto, se io torno indietro ancora un pochino... vedete la differenza. E sono esattamente alla terza scala. Adesso vado un po' più avanti, perciò sono anche roba un po' noriose da vedere. Questo qui è interessante perché... questo qui è il... lo zoning... lo zoning... la... come si dice... la... lo zoning map, quindi la mappa... ehm... del piano regolatore di West Hollywood. Allora, come vedete, queste città-territorio, la città è organizzata così, cioè... lungo l'asse principale, sono tutte le attività commerciali, bar, ristoranti, compagnia bella, hotel, e via dicendo. Poi il resto è tutto residenza, diciamo, ortogonale all'asse principale. E' tutto organizzato in questo... in questo modo. Adesso, è una cosa che... ehm... noi come italiani, diciamo... o io ci penso sempre... dico ma... ehm... insomma è terribile perché uno... è bella la zona principale, poi vai e ci sono tutte case. Quindi la divisione della... della funzione è... ehm... diciamo non ti dà il senso di città. Noi siamo sempre qui in mezzo a... ehm... bar, residenze, ehm... zona industriale. Qui è tutto diviso. Però è anche vero che quando sei in periferia, quindi quando hai tutte... quando hai tutte case basse, questo sistema funziona. Una cosa che... ecco, qui vedete Santa Monica, città completamente ehm... diversa, però sul mare, che vedete gli assi che sono questi qui colorati, questi qui colorati che sono quelli, diciamo... la faccio un po' più... la... diciamo semplifico un po', però questi qui sono gli assi commerciali e poi tutta questa cosa qui più generica sono tutte le case. Quindi veramente tutta questa ora qua è tutta un... tutte case... bellissime tra l'altro qui... ehm... però tutte case. Quindi diciamo, quando uno cammina in questa zona qua, ehm... in un certo senso può essere la lungicità, però alla fine... alla fine è anche comodo. Per cui io stavo pensando tra l'altro, mi è venuto in mente proprio stamattina, che forse forse si potrebbe fare un esperimento e applicare questo tipo di... ehm... oppure diciamo come esperimento di progetto applicare questo tipo di filosofia alla nostra periferia, perché qui non c'è. Noi cerchiamo sempre di fare il centro della periferia, cercare di fare il centro di una periferia come Milano, perché per te, vabbè, ci abbiamo le... ci abbiamo le chiese, ci abbiamo queste robe qui, ci abbiamo bisogno della chiesa in America, non è così, ci sono tantissime cose che entrano in queste discussioni. Però potrebbe essere una... un'idea, anche solo come speculazione intellettuale, diciamo. Il... un problema della città fatta in questo modo, qui è un altro mio dipinto, ma è un dipinto un po' ironico, è che comunque Los Angeles crea dei... ehm... rich ghetto po' ghetto, quindi il ghetto ricco e il ghetto povero. In realtà si vive allo stesso modo, ehm... e qui vedete, questo qui è il ghetto ricco, che è Beverly Hills, quindi su tutti i ricchi, ehm... veramente incredibile, su tutte ville giganti, piscine, verde, incredibile. Alla stessa scala, questa qui è la zona, una delle zone più povere di Los Angeles, che è South Central, e anche qui è interessante vedere la... ehm... la differenza della scala dei lotti. Quindi adesso sono anche domande che mi piacerebbe fare, se abbiamo tempo, come si sviluppa invece o è giusto decidere la grandezza dei lotti, non è giusto... ehm... è giusto pianificare o non pianificare... ehm... si pianifica di più qui in Europa, in Italia, Milano rispetto all'America. Eh... la cosa vera è che... ehm... forse connesso a questo tipo di filosofia, l'America cambia di più. Cioè, ehm... Milano... ehm... noi siamo proprio rigidi, invece l'America è più, ehm... flessibile, i casi vengono cambiati spesso, gli edifici vengono cambiati spesso, dopo vi faccio vedere un edificio ehm... commerciale che... che stiamo riprogettando e... che... a Milano non so... non... non... normalmente si vede un edificio che viene cambiato dopo... dopo 40 anni. E... e anche lì è una cosa... è una cosa giusta o una cosa sbagliata? Diciamo... ehm... sentimentalmente è una cosa sbagliata, come uno dice, ehm... insomma che in Italia costruiamo per... ehm... ehm... le cose perché debbano restare per tantissimo tempo, ma... per esempio gli edifici qua fuori... non so, resteranno una ventina di anni, trenta anni... però poi forse sarà il caso di... di cambiarlo un pochino... il... il... però ehm... poi c'è tutto il sistema ehm... economico chiaramente che in America fa ehm... ehm... fa sì che la... che l'urbanistica si sviluppi in questo... in questo modo. Questa qui è la zoning map di Beverly Hills, adesso vado un po' più veloce, e qui vedete anche qui ehm... questo qui è quello che chiamo diciamo il rich ghetto, perché veramente sono le ville... il problema principale attualmente è la situazione di downtown. Allora, downtown ed è interessante che è il centro storico di Los Angeles è la parte più brutta ed è ehm... la parte di uffici. Originariamente era bellissima, poi è calata, la gente va a lavorare, è degradata completamente, adesso stanno cercando di ripalutarla, ma la particolarità è che la parte bella di Los Angeles è sempre il West Side, quindi Hollywood, questo obbligo è Santa Monica. È un paradosso perché la periferia è in realtà il centro della città, mentre downtown è la periferia della periferia. Qui vedete un'altra... un'altra bella immagine, tra l'altro Los Angeles è meravigliosa perché a due ore si può andare a sciare, a mezz'ora si va... si va al mare tutto l'anno. Ecco qua, qui in alto dipinto, qui adesso cambia un pochino. Quindi vi faccio vedere due o tre cose. Los Angeles è cominciata così, come niente, praticamente. Questo è una mappa, credo, del 1800 o qualche cosa, fine 1800. Los Angeles è una città giovanissima, ha meno di 200 anni. e questa è una mappa del 1909, che fa vedere com'era e quanto terreno a disposizione c'era. E questa è un'altra cosa paradossale. Los Angeles è una mappa dei treni elettrici, che era sviluppatissima. Questo qui era il 1900... ma prima della guerra, praticamente. E poi, siccome tutti hanno comprato le macchine nel 1950, le aziende di gomme e di macchine hanno comprato le ferrovie e sviluppato le freeway, che sono meravigliose di per sé, adesso c'è il problema che c'è troppo traffico e stiamo ritornando indietro a rifare i treni e il sistema pubblico di trasporto. Però è vero che Los Angeles è sempre questa diatriba, è affascinante avere la macchina, è bellissimo vivere liberamente completamente all'opposto di New York, dove tutto è caotico, tutto è piccolo e con gestione assoluta. Los Angeles è la libertà, però alla libertà alla fine c'è il contraccolpo che diventa esasperata, quindi adesso non è più gestibile e si torna indietro al pubblico trasporto. Questi che sono interessanti sono i bus di Los Angeles, che sono anche questi qui uno dei sistemi più sviluppati dell'America. Qui vi faccio vedere delle cose che inquadrano più o meno la città e vi dico che zone sono, perché, ripeto, inquadrare la città è difficile. Dov'è che siamo? Questo qui è il Beverly Hills. Quindi Beverly Hills, vedete la zona principale con tutti gli edifici e tutte le ville più intorno. Questa qui è St. Tourist City, è una zona fatta nel 1960, costruita molto velocemente. Le due Twin Towers che sono qua sono fatte dallo stesso architetto Yamadaki che ha fatto le Twin Towers a New York, però queste qui sono quasi alla stessa proporzione di facciata, ma sono in pianta triangolare, quindi sono due triangoli. e questa è la tipica città degli anni 60, quindi perfetto, diciamo, urbanisticamente quegli spazi da, in un certo senso, dalle Corbusini, Meyer e compagnia. Questa è una vista di Hollywood invece, quindi Hollywood che guarda a Downtown Los Angeles. Questo è un altro edificio eccezionale che ha fatto e ha definito la città di West Hollywood. Quindi questo è Cesar Pelli che nel 78 ha cominciato, sono sbaglio, ha fatto quell'edificio blu, poi quello verde, poi quello rosso, ultimato tre anni fa. Questo è il Pacific Design Center, quindi dove ci sono tutti gli showroom di design. E questo è un esempio di un edificio, di un'architettura che ha definito una città, perché dopo che questo edificio completamente fuori scala è stato fatto, come un'icona incredibile criticato tantissimo in mezzo a tutte casettine piccolissime, però in realtà adesso è diventata l'ancora, è importante avere un'ancora visiva, una cosa che poi dà una personalità alla città. Per quello che c'è sempre, per lo meno nella mia mente, il fatto che dobbiamo fare queste cose, dobbiamo progettare urbanisticamente o no, o lasciare più all'architettura. è sicuramente una cosa che è sempre in discussione. Questa qui è la zona di Venice Beach, questa qui è il Molo di Santa Monica, che è subito di fianco a Venice Beach, questa qui è la camminata sull'oceano, e questi sono i canali di Venice, Venice si chiama Venice perché c'era a Botchini nel 1931-1933 insieme, che praticamente aveva l'idea di rifare Venice a Los Angeles con l'acqua del mare, quindi creare i canali, ne sono rimasti, è un progetto bellissimo in un certo senso, già un po' da Disneyland però, in un certo senso bellissimo, e adesso ne sono rimasti quattro canali, ed è interessante vedere tutte queste casette un po' tradizionali, un po' moderne, con questi canali, con le barchettine, in realtà il canale è alto solo, ma neanche un metro, però insomma è una cosa interessante in un certo senso, è paradossale tra l'altro. Questa qui è la zona di Malibu, ho messo questa foto per far capire, ripeto, è difficile da fotografare, non c'è un centro, per cui non c'è un'identità, se uno vuole far vedere Milano, fa vedere Piazza Duomo, fa vedere le 3-4 piazze principali, si ha il senso della città. Los Angeles bisogna purtroppo fare questo tipo di immagini in un modo un po' disordinato. Questa qui è una villa di Richard Mayer, bellissima, l'unica che ha fatto in tec, tutta in tec, invece che bianca, come il solito fa. Questa qui è una vista di Malibu, dove le ville sono veramente sull'oceano, e ognuno ha la proprietà, se non sbaglio... Si, è interessante perché la proprietà delle ville è fino al mare, quindi ognuno ha il suo pezzo di spiaggia, però si ha l'obbligo di far passare la gente. Queste qui sono ancora una vista di Malibu dall'altra parte. Poi ho messo queste cose qui per farvi capire un po' l'architettura. Adesso questo qui è il primo progetto di Frank Gehry, che è il Danziger Studios, quindi lo studio di un artista suo amico, che ha lanciato praticamente Frank Gehry, semplicissimo. E poi non potevo, diciamo, per forza non mettere la casa a Santa Monica di Frank Gehry, che fa capire tutto il paradosso e tutta l'avanguardia di Los Angeles. E' veramente una casa incredibile. Il video è ancora lì. Questo qui sicuramente l'avete visto. Questo tra l'altro mi ha detto che Frank Gehry quando l'ha fatto, lui era proprietario, non lo dice, ma era proprietario del terreno. Per cui a volte bisogna, diciamo, fare quello che si può, fare una roba. Ma il binocolo non l'ha fatto Oldenburg? Il binocolo sì. Oldenburg era il suo consulente e ha fatto il binocolo come, diciamo, cioè il progetto totale di Frank Gehry, il binocolo è Oldenburg come suo consulente, diciamo. Poi sapete Oldenburg c'è anche a Milano, eh? Lago il filo che c'è a Piazza Cadorna. Esatto, 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 esatto. E poi... eccolo qua. Questo qui è un altro edificio di un architetto, a me sono anche architetti meno conosciuti, questo qui è Michael Malten, è uno dei più quotati famosi a Los Angeles, non so se ne avrete mai sentito parlare. Questo è un edificio eccezionale perché è un edificio, intanto è praticamente uno shelter per gli uomini, come si dice, un posto per i... Un rifugio. Un rifugio per i senza tetto. E c'è una pista, è alzato così, è molto... super economico, ha una... diciamo, lo spazio qui tra... Qui sopra c'è tutta una pista dove gli uomini possono camminare in giro e fare un po' gli esercizi, e poi sono tutti gli appartamentini, tutti da sbalzo, ma è una roba... Cioè, per essere un edificio di uomini, insomma, nessuno paga niente. Anche per dire che, diciamo, in America non sono tutti cattivi, come dicono sempre. Questo qui è un edificio appena fatto di S.O.M., chiaramente è un edificio molto più corporativo, e la nuova courthouse. Questo qui è S.A.P.E.L.I. Non so se conoscete, e questo è interessante, quello davanti, in primo piano, questo qui, è la biblioteca di West Hollywood, e questo murales è... l'ha fatto Shepard Ferry, che è quello che ha fatto... è lì a Los Angeles, è quello che ha fatto il tratto di Obama famoso, e adesso è tutto... Sicuramente lo conoscete, ma è interessante. Tra l'altro, un'altra cosa da studiare, da vedere, è tutta la cultura dei graffiti, della grafica che è proprio generata a Los Angeles. Questo qui è il T-Center di Richard Mayer, che sicuramente lo conoscete, che è... C'è sempre questa diattribua tra Gary e Richard Mayer, perché questo qui è praticamente l'edificio più costoso d'America, mai costruito, a piede quadrato. Molto più costoso anche della music concerto, della Disney music concerto. Molto, molto più costoso. E' una cosa interessante da capire, perché qualcuno non direbbe, però, in effetti, cioè questo è proprio perfetto. Qui c'è proprio la perfezione della costruzione. Bello o brutto, non entro in questa cosa. A me piace tantissimo. Il Rain Gear, invece, diciamo, niente è perfetto, è tutta la forma, intenzionalmente, è un edificio meraviglioso, chiaramente, e tra l'altro adesso è il simbolo di Los Angeles. Un altro, non so se conoscete questo qui, siete parlato qui in Italia di questo? Un altro, non so se conoscete. 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 Si, è, che è il Dillerescofidio, che sono, questo qui è il Broad Museum. Allora, Broad, ehm, Broad è quello che ha fatto fare, il Broad è un personaggio di, credibile, è quello che ha fatto fare il museo di Renzo Piano a Los Angeles, il LACMA, e colleziona praticamente architetti superstari. Questo qui è il suo museo privato della sua collezione d'arte moderna, ed è di fianco, lui è amico personale di Gary, gli ha fatto la casa, poi hanno il figatto, non l'ha finita, è uno dei più grossi scandali, comunque sono sempre amici. Il museo è di fianco al Music Concert Hall, questa parte qui è il, questa qui è il Music Concert Hall, questa è il Dillerescofidio, completamente l'opposto, è architettonicamente una cosa super criticata, perché i Dillerescofidio sono molto concettuali, ho fatto, per esempio, il, adesso mi digresso un po', non sono una curva di interno. A Basilea, quando c'è stato l'Expo in Svizzera, hanno fatto la famosa nuvola, se avete presente la nuvola che praticamente evaporava. Esatto, il padiglione dell'acqua. Il padiglione dell'acqua all'Expo svizzero di, adesso non mi ricordo, 2000 qualcosa, non mi ricordo esattamente la data, ho fatto la Dillerescofidio. Dillerescofidio. Adesso a maggio inizia la triennale, ricomincia la serie delle triennale. Dillerescofidio sono stati tra gli ultimi a partecipare alla triennale del 95, prima che diventasse triennale tutti gli anni, quella di Milano. Quindi sono due personaggi molto interessanti, anche questi architetti di cui parla. esatto, che sono di New York, quindi per loro era una cosa molto importante fare, diciamo qualcosa a Los Angeles. Questo l'hanno vinto contro Rencolas, quindi c'era un progetto di, hanno fatto una mini competizione, c'era un progetto di Rencolas che era praticamente un quadratone, a me piaceva di tutto lato, era un quadratone sospeso, super aggressivo per Los Angeles con i terremoti, e niente, e poi dopo Broda scelto per Dillerescofidio. E' bellissimo, dentro bellissimo la cosa che è stata molto criticata è che questa struttura, il vel, quindi questo è stato fatto col concetto della volta, che ha l'arte, che contiene l'arte, e il velo, il cemento sopra che poi crea questo, cioè controlla la luce e doveva essere strutturale. E poi alla fine non è più strutturale tutta una roba finita, perché c'è dentro la struttura di ferro dove è tutto di cemento portante e invece è più una decorazione. Allora sono cominciate le polemiche a Los Angeles, tutti gli architetti allora hanno fatto un tetto che è quello di Renzo Piano, però Renzo Piano in effetti è più bravo di loro. In effetti a vedere, a me è Renzo Piano che non mi era mai piaciuto, però da quando sono a Los Angeles devo dire che adesso è il mio preferito. Questo è interessante, non so se voi avete mai visto, è una cosa che a noi non ce la facevano mai vedere 15 anni fa, o 17 anni fa all'università, che ci sono dei costruttivisti che hanno proprio creato il carattere, l'avanguardia di Los Angeles. Questa è una zona di Calder City, che è il stato giocatolino di Erich Owen Moss. Non so se qualcuno abbia guardato questi architetti, Erich Owen Moss, Morphosis, Coppelman Blau, no? Andate a vederli perché sono delle cose incredibili rispetto a quello che si fa qui. Tra l'altro Coppelman Blau, molto interessante, loro sono austriaci, così come erano austriaci Neutra e Schindler, che erano quelli che erano gli allievi di Rai, che sono andati a Los Angeles e hanno influenzato tutta la modernità di Los Angeles, i due austriaci. Coppelman Blau, amico di Tom Romain, Morphosis, che erano quelli i primi che hanno fatto la bolla negli anni sessantotto, quelle provocazioni, quelle... Dei costruttivisti proprio, diciamo, chiamiamoli i primi dei costruttivisti, che erano stati invitati da Philip Johnson insieme a Zadid, Frank Gehren, Colas, Bernard Schumi e Libeskin, nell'esibizione di decostruttivismo, che è quella che ha cambiato, in un certo senso, che ha legittimato questa architettura, ho definito questo stile per... e che in un certo senso ha definito anche gli archistar degli ultimi vent'anni, in un certo senso, anche l'istituzione dell'89. Mos non era nell'esibizione, ma è veramente un architetto da guardare, perché gli può dare veramente tante... non è che... adesso attualmente fare una cosa del genere, per esempio, a me sembra un po' esagerata, però vederla ti dà veramente tanto entusiasmo, ti fa capire che, diciamo, che bisogna cercare di fare cose diverse e provare senza paura di sbagliare. Questa qui la chiamano... qui davanti la chiamano l'ombrella ed è veramente incredibile. Questa è tutta una zona industriale. Ecco, questa qui può essere... non ciò non pensato... può essere comparata a questa zona qui della Bovita. Cioè, sono edifici industriali, alcuni esistenti e lui ha fatto tutti questi interventi incredibili. Diciamo un po' più... un po' più... come si dice... eccitanti di queste cose qua, insomma. Il... il... questo qui lo chiamano Pterodattilo. Questo qui è una torre. Sì, è solo una torre con questi pannelli, con i piani disassati e vengono proiettate sui pannelli dei video. È una torre, diciamo, importante adesso. L'hanno fatta perché è la nuova ferrovia, che vi dicevo... adesso, diciamo, la sfida di Los Angeles è ritornare un po' al... a quella... al pubblico... al pubblico trasporto che c'era prima delle freeway. E passa proprio qui davanti. E... tra l'altro è interessante. Molto veramente... matto. E lui era il... ehm... Dean della SciArg. Che... anche qua... se voi... sicuramente adesso parlano tutti inglesi. Voi parlate inglesi? Abbastanza. Però, se andate sulla SciArg, veramente interessante. Si chiama SciArg, scritto S-C-I-Arg. è l'Università d'Avanguardia della California, fondata da Ray Cappe, dove Moss, Morphosis... no, Moss, Tomain, principali di Morphosis... L'Università d'Avanguardia della California, hanno cominciato a fare professori. E sono quelli di... i decostruttivisti, con la filosofia di insegnare architettura come... ispirata alla Cooper Union di New York, che era molto... ripeto... d'avanguardia con un sistema di insegnare più... più pratico e più... come si può dire... se lo posso dire... un po' come la differenza... penso non la differenza tra Leonardo e Bonilla, però... se più di rottura, diciamo, ma anche nel modo di insegnare, cioè più pratico, tutti i modelli, tutte cose... d'Avanguardia, molto formalistiche, non razionali per niente... veramente di ricerca formale. Adesso, secondo me, è un po'... è un po' passata questa cosa, però è interessante andare a vedere questa SciArg perché hanno una lista di video dal 68, interviste, lezioni di tutti gli architetti famosissimi... Frank Gehr, lo stile di Miss Van der Rohe in California, in un certo senso... Adesso poi mi dilungo... come dicevo, sono un po' disorganizzato nel modo in cui parlo, però... diciamo... va bene con Los Angeles... questo qui è un progetto, anche questo qui bellissimo, di Renzo Piano, di fianco al museo che ha fatto dell'acqua e che adesso viene rifatto, o verrà rifatto, un grosso progetto di Zunto. però Renzo Piano sta facendo questa bolla, si chiamano la bolla di Renzo Piano, dove diventerà, diciamo, il nuovo centro per gli Oscar, quindi l'auditorium in particolare per gli Oscar. Questo è su Sanze Boulevard, è l'Università Emerson College di Film, Università Cinematografica, sì, Università Cinematografica, un progetto bellissimo di Morphosis. Questo è un edificio simbolo di Los Angeles che c'è quando si riesce dall'aeroporto, fatto da Paul Revere Williams, superfrutturistico, sui non rendering, ma mi piace far vedere rendering invece dell'edificio. Questo è bellissimo perché sicuramente non può far vedere nessuno, ed è un monumento di Los Angeles, fatto nel mezzo di South Central, sono le Watts Towers, che ha fatto un italiano, che si chiamava Sam Rodia, che era un muratore, che era un napoletano, che è andato, insieme a dieci anni è stato imbarcato, scappato dall'Italia, è andato in America, faceva il costruttore, faceva l'idraulico, il muratore, e quando tornava a casa per 40 anni, 35-40 anni, ha costruito queste torri da solo, e quest'uomo non parlava italiano quando è andato, parlava il diretto napoletano, è arrivato lì, parlava male lo spagnolo, male l'inglese, malissimo l'italiano, non ha mai spiegato perché le ha fatte, sono diventate un monumento, perché strutturalmente sono una genialazza, non possono cadere con nessun terremoto, chiaramente sembrano quelle di Gaudino, ma lui Gaudino non sapeva neanche chi era, e adesso vi faccio vedere, sono fatte con il, in inglese dice chicken wire, fil di ferro per le, per i, quello esagonale, quello per i polli, e praticamente, praticamente il chicken wire, e poi con le macchie metteva tutto il cemento intorno, e ci metteva, e adesso ci metteva da vicino, e tutti i pezzettini di, di qualunque roba, ci sono dentro le conchiglie, pezzi di, di lavandini, e poi ci ha fatto le, le fontane che erano dentro, c'erano i giochi d'acqua, ma, queste fatte da un uomo solo in 35 anni, ma andava su, perché poi sono fatte in modo, in un modo per cui lui doveva, diciamo, salire, quindi sono fatte a scale, sono tutti, è una roba, è proprio incredibile, in italiano, e poi si è fermato un giorno, e gli ha chiesto, è andato a San Francisco, ha venduto la casa a San Francisco, e gli ha chiesto, a quel tempo l'hanno messo su una copertina dei Beatles, perché era una cosa eccezionale degli anni 60, ma lui è morto nel 65, ma credo mi, non ricordo se è Vito o se ho avuto, e gli avevano chiesto, l'unica cosa che ha detto, ma perché ha fatto un settore, ma perché si è fermato? Ma, la moglie è morta, mi sono fermato, sono andato a San Francisco, e non ha mai spiegato niente, ma è l'unica cosa che non hanno distrutto quando hanno fatto il famoso riot del 1994, a South Central, dopo che un camionista di colore ha praticato la polizia, questo diciamo è stato la goccia che ha creato questo riot per più di un mese, che ha segnato Los Angeles, che è stato uno degli eventi, diciamo, sociali più importanti dell'America degli anni 90, però nessuno ha mai toccato questo attore, perché veramente sono un simbolo per tutti. Vedete questi stemmini qui, quelli che si chiamano fiorellini, sono fatti con le manopole dei rubinetti, che lui prendeva dalle costruzioni e poi quelli che buttavano via li usavano, vedete qua c'è una decorazione che è fatta con i martelli, in fronte dei martelli, poi chiaramente secondo lui non ha mai detto niente, ci sono tutte le interpretazioni, perché poi il terreno è fatto a punta, quindi pensano che sia fatto come una nave che punta all'Italia, però qualcuno ha detto non si sa se perché lui vuole tornare dall'Italia, tornare in Italia oppure solo quello di questo, hanno fatto tantissime interpretazioni, è un miracolo costruttivo, veramente incredibile. E questo è il personaggio che ha costruito, che è proprio italiano. Ma è una cosa d'orgoglio anche nostra, perché nessuno sa, o meglio, veramente gli architetti Los Angeles lo sanno, però non è che se fanno delle Los Angeles, il segnale di Hollywood e Frank Gehry, però in realtà per tutti questa cosa qui è veramente un mistero. Come si chiama lui? Sam Rodia, che in realtà era Simone Rodia, probabilmente non era neanche Simone Rodia, si è in mezzo inventato lui il nome per quando è arrivato, e Rodia, Sam Rodia, forse era un po' diverso, insomma, comunque il nome ufficiale è Simone Rodia, o Sam Rodia, e andava su in alto, e si sono alte, beh l'avete visto prima, comunque cosa sono? 35? 5... 2 piedi, da sangue. Guardate voi, no... 1, 2, 3, 4, 5... 5-6 piani praticamente. 7 po', 7 piani, 7 piani. E lui andava su così, senza strutture, niente, con il secchio, è veramente un miracolo un'opera d'arte architettura pura perché non ha funzione non ha funzione però ci vai dentro perché le torri ci puoi andare dentro sono tutti questi giardini giardini d'acqua questo è un altro progetto no progetto dipinto, allora cambio discorso è un è un billboard che a me tra l'altro piace tantissimo i billboard a Rosentia sono così numerosi e sembrano delle delle colonne tra l'altro queste veramente sembrano delle colonne sembrano dei capitelli con l'aggetto io li trovo favolosi come si può dire sono veramente secondo me una delle strutture più belle di Rosentia è adatto un po' il billboard il cantilever questa cosa che è tutto disconnesso è un po' l'estetica di Los Angeles e del decostruttivismo anche legata al fatto che si può per il tempo cioè per il per il 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 fatto che Los Angeles non piove cioè tutto è parlavo con un altro mio amico un altro giorno un altro architetto Los Angeles l'architettura è tutta separata quindi diciamo la double skin doppia pelle si può separare i giunti separare gli elementi tutto è aperto New York è tutto tutto tight per esempio la music adesso faccio una digressione un pochino questa qui la music concerto di Gary uno dice come come Bilbao possiamo perdere la forma e tutto ma tecnicamente diciamo la la sensazione tecnica o la sensazione del dettaglio la sensibilità del dettaglio questa è una sono pannelli aperti qui c'è spazio invece a Bilbao per esempio la parte il giunto è diverso ed è tutto super tight è super tight come si può dire sigillato ecco invece questo qui sono superfici separate dalla seconda pelle insomma è interessante anche cercare di pensare a queste cose quando ho studiato ho fatto i progetti questo adesso vado veloce e faccio vedere come una città di Los Angeles ho fatto tutte queste queste foto attraverso Google dalla Music Concert Hall che è downtown il centro di downtown fino a Santa Monica quindi adesso è come se andassimo in macchina insieme attraverso Los Angeles vi faccio vedere che è così brutta però ripeto così brutta che bella allora qui stiamo andando verso su Isha Boulevard quindi qui è la strada principale che taglia Los Angeles quindi qui si passa qui stiamo uscendo un pochino da downtown qui vedete come dopo vi parlo di come si fanno le strutture di come si costruisce Los Angeles vedete questi sono quattro piani primo piano in cemento gli altri tre in legno fino a quattro piani tutto legno per i terremoti e poi perché si costruisce così in America poi dopo vi dico altre cose il McDonald's presentito qui si passa attraverso un parco grandissimo dove così giocano a padrone perché ci sono tanti di siccani attraverso vedete gli spazi vedete le dimensioni queste sono questa è una strada diciamo non so come potete paragonarla a Milano è una strada che passa in me c'è una strada che passa nel parco semplione no diciamo una strada sì una strada no non semplione semplione grande anche lui però è un strato maglia diagonale strutturale e poi ecco una cosa interessante è questa l'America è stata fatta super super moderna negli anni 40 50 60 penso sia per quello che gli americani sono stufi di essere moderni sono diventati stufi e poi ho cercato di fare le cose storiche per quello che parlavo con un altro architetto parlavamo di design che non c'entra niente parlavamo della serie a Barcellona e lui diceva ma in America tutti vogliono le robe tradizionali sì ho capito ma di capire che la serie a Barcellona in America quando mi svanderò alla parte del 35 c'era in tutti gli uffici di tutti i palazzi di tutte le città d'America e adesso in Italia per noi è una cosa super chic in America sta ritornando ancora ed sarà sempre chic però è per questo che tanta gente l'associa a un'estetica di 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 ufficio questo per dire il motivo per cui l'America in un certo senso è tornata indietro in tante cose o c'è questo senso che vogliono sempre fare le cose un po' un po' tradizionali ecco comunque continuiamo tutte le palme che va tutto bello qui sempre partiamo Corea Town su un altro grosso murale si c'è parpere non lo terro qui andiamo verso qua ecco questo edificio qui verdino di rame dove c'è l'ordine dell'architetto di Los Angeles qui andiamo avanti qui passiamo attraverso Hancock Park che è la zona dopo downtown la zona storica chiamiamola Beverly storica prima di Beverly poi passiamo questa qui la chiamano Miracle Mile da adesso perché hanno costruito praticamente in 1980 in dieci anni hanno costruito un miglio hanno chiamato il miglio dei miracoli no non dieci anni in quattro anni hanno costruito un miglio di edifici esagerati dopo il Miracle Mile si arriva a questo edificio di Renzo Piano con questa scultura bellissima di Chris Burden davanti nella piazza che vediamo la piazza aperta poi dopo hanno messo la scultura che è bellissima questa è un edificio storico chiamiamolo storico è un coffee shop che è un simbolo dell'architettura che in America chiamiamo Guji Architecture che ha inventato in un certo senso Lautner Guji Architecture perché è stramba ed era fatta per attirare le macchine quindi sono queste cose molto strane ma in un certo senso bellissime questa è anche vista come l'origine del decostruttivismo questo fatto è anche questo qui nel 1950 quindi sono i drive-in tutti questi diners che sono i posti dove tu puoi mangiare sempre quello che vuoi colazione o cena 24 ore su 24 e avevano questa Guji Architecture perché dovevano essere attrarre le persone e Guji Architecture non vuol dire niente però c'è il senso del è proprio come Google Guji Google questo qui è un è qua entrava a vedere lì quindi adesso diventano i palazzi molto più eleganti in un certo senso vedete questa qui ripeto noi stiamo facendo la strada tutta commerciale poi lateralmente sono tutte le strade residenziali con le casettine qua stiamo praticamente stiamo entrando nel centro del Ril questo è l'edificio questa è proprio la diciamo una tipica come si può dire guidata attraverso l'edificio qui questo edificio qua è importantissimo perché adesso è chiuso da due anni ma l'edificio è un ristorante che ha fatto la fama di Morphosis il Kate Mantilini andate a vedere il Kate si chiama Kate Mantilini è il nome del ristorante ed è interessantissimo perché loro cosa hanno fatto? lo vedete si riesce a capire era un edificio di uffici e l'hanno hanno lasciato i mollions quindi come si dice i mollions ha tirato via i vetri ecco ha tirato via i vetri e ha lasciato la struttura dei vetri no? come si chiama? quando ci fanno i gattacieli non gli scrivi il telaio il telaio esatto il telaio il telaio e hanno quindi tirato via i vetri lasciato il telaio e costruito dentro questo 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 ristorante fatto salta fuori queste tutte queste 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 forme queste queste architetture appunto di costruzione e questo era nel 1978 ed era un modo diverso di vedere di approfondire che non è praticamente non è una ristrutturazione ma non è un'addizione un intervento è come un'addizione per sottrazione insomma qui passiamo ancora a Prevalier qui c'è Canon Drive questo qui questo qui di fianco è un edificio molto elegante di Richard Mayer questo è l'edificio sono tutti edifici di pensionati della zona vicina della zona della UCLA dell'università quindi andiamo avanti qui c'è tutta questa parte vuota è sulla destra è il cimitero del veteran party il cimitero dei veterani adesso non si vede però e dall'altra parte questo edificio bianco che tra l'altro è molto bello o perlomeno pulito bellissimo negli anni 60 è il Federal Building qui passiamo attraverso questo incrocio gigante delle freeway e qui vedete ecco qui vedete la dimensione questo è quello che è pazzesco diciamo pensarlo qui ci sono una due tre quattro cinque lei più sei dodici corsie dodici corsie le freeway il marciapiede quando dopo un po' chi se lì ci si abitua però la prima volta che si arriva attraversare la dolce costie è un'esperienza qui si attraversa qui cominciamo ad andare quasi a Santa Monica questa è la parte che non è ancora Santa Monica quindi è tra diciamo Westwood noi abbiamo appena passato Westwood dalla zona dell'università andiamo a questa è West LA quindi West Los Angeles si chiama qui vedete e ripeto non è non è per niente bella però è affascinante i liquor store qui sono i negozi che vengono i cuori cuori di palle qui andiamo verso Santa Monica quindi siamo qui siamo a Santa Monica e cominciamo arriviamo ecco qua lì c'è l'oceano la statua di Santa Monica e qui l'Ocean Park e qui adesso voglio che cambio la domanda ecco qui quindi questa è diciamo non è vi ho fatto vedere un passaggio non diciamo una come se sono veramente fatto la tipica guidata tra un netto a Los Angeles quindi senza farvi vedere delle cose speciali ma quello che comunemente si 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 es si 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 ci si Where Next LA Awards, è interessante perché è il premio sui progetti che viene dato dall'ordine architetti di Los Angeles per i progetti d'avanguardia, quindi sono cose non costruite che vengono premiati. Il premio tra gli architetti di Los Angeles più ambito e hanno premiato questo è uno studio X10, mi sembra, che ha uno studio da Los Angeles che hanno fatto il concorso per il Vubinam a Helsinki, questa è una residenza che hanno premiato e tutti mandano progetti, questo è Med Architect, questo per far vedere cosa si ha in testa a Los Angeles, chiedevo a Warner prima cosa è che si dice qui all'università, cosa è che pensate voi dello stile, cosa siete in mente? Quando ero qui io, 15, scusate, mi sono arrivato al 2000, per cui dal 95 al 2000, ero qua al 94 al 2000, si parlava di grassi, rossi, di banderoe, Raffaele Moneo, adesso mi sembra che non ci avete più riferimento, magari è assolutamente, magari probabilmente meglio così, però questo vi dico per far vedere cosa c'è a Los Angeles, c'è, c'è adesso attenzione a essere più, questi sono i progetti premiati, questo è Tom Wiscombi, che è uno dei super formalisti, professore della CyArc, è un museo questo, poi Morphosis vince sempre, poi l'ho vinto anch'io quest'anno, poi quello ve lo faccio vedere, faccio un po' di pubblicità, però questo di Morphosis, ripeto, vince sempre, Morphosis sempre, c'è un progetto che dice, il progetto d'avanguardia, è un attore che lui sta costruendo in, non ricordo se in Cina, mi sembra, che è una roba incredibile, Morphosis veramente, è un architetto in un certo senso che nessuno può fare meno di guardare o di, tra virgolette, copiare, cioè, volente o volente devi per forza a Los Angeles sapere cosa ha fatto, tante cose adesso sembrano un po' troppo, adesso lui è già, c'è un po' di surprise, tutto, e vi consiglio di vedere cosa quella ha fatto, dall'inizio fino adesso, è un po', diciamo, Los Angeles, Frangheri è il mostro sacro, e poi Morphosis è il mostro appena appena meno sacro, e appena appena un pochino meno sacro, e poi ci sono, e questo è un progetto che ho fatto io, che ho vinto il premio per un concorso che l'ho vinto qui a Milano, chiaramente, però è il centro civico del, centro civico Garibaldi Isola, e sono stato contento che hanno apprezzato Los Angeles, ma non andiamo, ed è un'architettura un po' sospesa, è un'architettura appesa e sospesa, ecco, chiaramente era anche, probabilmente fuori budget, perché il progetto che ha vinto è invece molto semplice e safe, ecco, questa è una cosa brutta dell'Italia, qui c'è l'opportunità di fare una roba incredibile, almeno anche per dare un po' di entusiasmo, invece ha vinto un progetto, stanno bravissimi quelli che l'hanno fatto, però, insomma, è una roba normale, che sarà bellissimo, sarà fatto benissimo, però c'è bisogno di fare qualcosa di diverso, perché Milano ha fatto sempre delle cose eccezionali, io ho il mio modellino, adesso vuol dire che cambia, perché non c'entra niente con quello che sto dicendo. Questo qui è un altro progetto, un dipinto che ho fatto per questo progetto su Westwood Boulevard, ho messo tre progetti che hanno un pochino la scala urbana e poi una casa, quindi un edificio commerciale, una casetta, due grossi edifici di uffici e poi una casa a Southampton, a New York, che ho completato, che piaceva molto a Warner, l'ho messa anche se non c'è tempo con Los Angeles. Allora, questo qui è un edificio che a me piaceva fare, è importantissima la facciata a Los Angeles, è importantissima, è importantissima come viene percepita dalla strada e mi piaceva l'idea di fare un edificio, non so che ho fatto questo dipinto all'inizio, o magari anche dopo, ma conta poco se sia fatto prima o dopo, però pittorico, cioè ha layers, quindi qui sono due colori di nero, quindi nero scuro e nero chiaro e questo screen che serve anche principalmente per ridurre l'energia, perché non tantissimo, però insomma riduce del 20% il consumo dell'energia dell'edificio, ed è di alluminio ed è così, poi c'è tutte queste cose che saltano fuori, questa è una ristrutturazione, non vi faccio vedere come la prima, non potete dire che era meglio come la prima, però diciamo sono contento di come è venuto, ed è praticamente questo screen che poi si curva e va dentro nella lobby, è scavata, è scavata rispetto all'energia della strada, è un dettaglio tutto sommato semplicissimo, questo è alluminio, si piega, il 1964 è il numero dell'edificio che deve essere grande perché deve essere visto dalla strada, questo è un dettaglio di come è fatto, questo è un altro dettaglio, la complicatezza è che praticamente, la complicatezza, il design se vogliamo, è che queste barre, diciamo quando sono continue a livello del parapetto, difficile come installazione, perché devono essere tutte allineate, e qui avete giunto, un giunto di alluminio e ferro, la cosa interessante che non avevo mai imparato da studente, ma secondo me è importante che voi pensiate anche alle cose proprio tecniche, per esempio il ferro e l'alluminio non possono toccarsi, perché con l'acqua fanno la reazione non galvanica, fanno una reazione chimica che poi corrode il ferro e rovina l'alluminio, però basta soltanto una piccola guarnizione, piccolissima, infatti qui c'è un anello di ferro, che deve essere di ferro che non tiene, la barre è di alluminio e c'è soltanto un millimetro di plastica, tra i bordi qui non c'è questo qui, era una foto di modellino che avevo in mano, non un modellino, di giunto che avevo in mano, questo non ho dipinto, quindi adesso cambio, questa qui è una casa che sto costruendo, che è in foundation, ha le fondamenta, semplicissima, con il ceneri glass, questo qui è un cubettino, non cubettino, è un cubettino, non li chiamano, cube glass, no neanche, no, forse no, comunque i vetri a u, li usano tanti, non è chiesto, questo è un disegno x-ray, si fa vedere come è la casa, è abbastanza semplice, ma è tutto un gioco di, diciamo qua c'è un gioco di volume, qui dobbiamo massimizzare i metri quadri e il volume, il massimo che possiamo fare e poi diciamo per me è molto importante avere tanti luci, diciamo dentro c'è la luce che entra negli spazi in una maniera abbastanza interessante, tanti luci ernali, questa parte qui che si alza dietro è una parte a tripla altezza, questo qui è l'altro progetto, questi sono due edifici che stiamo facendo all'inizio di West Hollywood e alla fine di Beverly Hills, o alla fine di Beverly Hills all'inizio di West Hollywood, è una ristrutturazione, ma è una grossa ristrutturazione, perché quello che vedete in bianco, diciamo, è la parte che non viene toccata, quello che vedete in blu è la nuova skin di tutto il basamento e questo qui, adesso vi farò vedere, questo qui è un aggetto, diventa una light box gigante, questo qui è un aggetto grossissimo che fa da portare tra i due edifici, il mio cliente è proprietario di due edifici, volevano unirli per avere una maggiore identità, però secondo me era sbagliato e gli ho convinti che è meglio mantenere un linguaggio di unione ma tenerli separati, perché quando si uniscono queste cose qui, diciamo di dimensione, diventa una roba proprio sovrumana, è importante separare gli edifici, quindi avere una strada e mezzo anche se è solo l'entrata delle macchine. Questa la chiamo ristrutturazione, qui io sto cercando di fare una cosa che all'inizio non si fa tanto, perché è un po' un approccio più italiano, nel senso che altri architetti avranno fatto, è stata una competizione per fare questo progetto e volevano cambiare tutti i tutti, decomporre, alleggerire completamente il basamento e dare una scala più, una scala diversa. Qua vedete degli altri rendering, la pelle entra e diventerà poi dentro e fuori lo stesso materiale nelle lobby che vengono cambiate, questo ristorante è tutto vetro, tutto leggero, ecco questo è l'esistente, il sopra, vedete qui, queste qui sono, adesso è invece tutto stucco, questo è un granito cambiato nel tempo, questo al tetto, come si dice, a tappo chiamiamolo, invece praticamente noi adesso tagliamo il tetto e facciamo passare il vetro in verticale, questo è l'esistente e questo invece è quello che verrà dopo, con speranza, con speranza tra poco, ma non so perché c'è sempre problemi di value, ecco qua, questo è il dettaglio, sono scali di vetro con i giunti sbalzati, quindi una, quando si passa diciamo sulla strada, i vetri sono inclinati in questo senso e poi un corso è inclinato in questo senso e il corso sotto è inclinato in questo senso, adesso sto esagerando il movimento, però lo capite guardando la figura, poi questa è una seconda pelle, dà l'opportunità di mettere la luce dietro, quindi dentro, quindi di sera con LED, che quindi costa molto meno della luce che hanno adesso, questo qui è un mock-up che abbiamo fatto per approvarlo, adesso la luce qui, tra l'altro dovremmo cambiare un po' la luce, però il concetto è un altro modellino che ho fatto, ecco questa qui invece, che non c'entra niente con Los Angeles, è una casa che ho fatto a Southampton, Southampton a Long Island a New York, che è interessante da farvi vedere, ho delle foto anche in costruzione, perché è tutta fatta di legno, allora questa qui, diciamo il concetto della casa, Southampton è super conservativa, fanno tutte case veramente tradizionali, questa qui io avevo l'idea di fare un volume il più semplice possibile, quasi disegnato da un bambino, quindi in America questo si descrive come contemporary bar, quindi il, come si chiama, non saprei, la casa di campagna, non è la casa di campagna, il granaio, diciamo, è un volume come un granaio, perché la pianta è completamente aperta, però ha il tetto la falda, tutto a filo, quindi non ci sono aggetti e ho cambiato la posizione, quindi il comignolo, che è questo qui, diventa l'entrata, il volume del camino, che di solito è alla fine, diventa l'entrata, il gable, il timpano, in inglese del gable, dà la luce, è tutto di vetro, con davanti uno screen di legno, e dà la luce alle camere e adesso lo vedrete dentro, il, e poi questo, non sto a guardare, si chiama Joe Shapiro, sicuramente avete visto le sculture, ma nessuno sa che si chiama Joe Shapiro, è quello che fa quegli uomini, con gli stecchini di legno, che poi dopo le ha fatto il bronzo, e ha cominciato a fare le casettine piccoline, queste strutture, era un minimalista anche lui, come Donald Giade e compagnia bella, e faceva queste sculturine, e ho fatto il modellino come le sue sculturine, in un certo senso, ma mi piacevano le sculture, l'ho tagliato proprio così, un pezzo di legno piccolino, qua vedete lo studio dei concept model, diciamo, ecco qua dentro, adesso vedete di fianco, quindi sotto c'è il garage, questo qui è uno scorcio della, della great, chiamiamola, la chiamiamo great room perché è il salone, quindi tutto, tutto aperto, vedete lo screen sopra, che dà la luce all'interno, e poi la vetrata gigantesca, e questo, il tetto, ecco, il volume è 72 piedi per 44, quindi vuol dire, 72 piedi quant'è? In piedi sono 30 cm, giusto? In piedi 31 cm, quindi 3x7, 21, 20, ecco, facciamo finta 22 metri, quindi 22 metri per 44, per 12, per 12 metri, quindi questo qui è la pianta della casa, lasciata così, tutta vuota sotto, con una camera sola al bagno, come adesso vedete, e poi uno scalone grosso e le camere sopra, questa l'accampata, diciamo, a 12 metri di, di spanno, come si dice, di luce, di luce, di luce, si apre tutta sulla piscina, la casa è rialzata su un basamento di travertino, quindi fa l'infinity pool, e poi qui davanti, che non si vede, c'è il, qui da questa parte c'è il campo da tennis incassato dentro, questa è una vista da dietro, ecco, queste finestre che si aprono tutte sono 20, no, 40 piedi, quindi 4x3, 12, 13 metri di apertura, a presa armonica, e lì dopo, che è questa qui quando si entra, e dopo vi faccio vedere la trave di ferro dentro la struttura di legno, che serve per avere queste, queste grosse aperture, qui vedete il, la composizione, tutta moderna, con qualcosa di tradizionale, il lampadario, fa un po' da, da contrasto, la cucina, qui disegnato anche tutto, tutto l'interno, questo è l'entrata, quindi quel volume che vi dicevo prima, il camino che invece di essere messo tradizionalmente alla fine della casa, è messo dal davanti, quando si entra, c'è questo, adesso vedete in sezione, dopo, si entra, questo qui è alto, 35 x 9 metri e mezzo, e poi si abbassa ancora, qui è una tipica camera di una bambina, di una delle bambine, del cliente, che è bellissimo, perché diciamo, è proprio una bambina, 15, 15 piedi, quindi 5 x 3, 15, 5 metri e mezzo, no, scusate, 3 x 5, 15, 15 piedi, 15 piedi, 15 piedi sono, sì, quasi 5, 4 metri e mezzo, questo è poi la scala, la chiocciola, un po' con, diciamo, fatta elica, il railing qui fuori è chiaramente molto simile a quello che fa Richard Mayer, che mi piace molto, dentro invece interno è l'opposto, perché c'è, questo ha i verticali piatti e gli orizzontali rotondi, che è più facile da fare, dentro invece abbiamo fatto i verticali tondi e gli orizzontali piatti, questi sono tutti i dettagli che nella realtà, poi dopo le correnti esenziali, sono importanti o, come si può dire, divertenti da fare. La scala è interessante, perché per esempio è fatta elica, quindi io volevo che fosse un piatto che si girasse, però per farlo alla fine, in realtà è un tubo da 35 di diametro e poi tagliato, tagliato a laser praticamente e che quindi diventa un, un, come si chiama, diventa un nastro, invece quello esterno è piegato come si piegano le travi per le freeway, c'è un'azienda che lo fanno, è una roba abbastanza semplice, insomma, questo qui è il camino con sopra una scultura, un toro, la piscina, questa qui è la guest house, che ecco si connette con la casa, con tutto questo, questa, queste vetratte altissime, che sono di legno, sembrerebbero di alluminio, ma in realtà sono di legno altissime, fatte in Italia con la, come si chiama, la ferramenta tutta austriaca. Ecco qui vedete la struttura, la scala principale, è tutto, la casa è completamente bianca, eccetto la cucina e questi due pannelli soli, pannelli, serie di pannelli intorno alla scala, che diciamo è attaccata solo con due punti, quindi sembra un po' galleggiare in mezzo a questo, questo è Tec Lucidon, e qui vedete la pianta generale di tutto il lotto. Questo è un altro scorso da dietro, questo è dall'altro timpano, c'è il gioco un po' che da una parte è chiuso dietro allo screen, dall'altro è aperto, e vedete in trasparenza appena appena la capriata, che non so come si chiama in italiano, non mi ricordo più, però si dice Schissortrass in inglese, forse non so se parliamo in belga, c'è la belga, c'è la, che sono un po', e anche questo qui è aggiunto, quindi i pannelli di Tec, tutti lucidi, 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 il resto tutto bianco, le trai che vanno dentro, tutti a vista, così sono i disegni, diciamo di presentazione, ecco qua, tutta la casa è fatta così, allora, queste qui sono le studs, le studs sono i supporti di legno, adesso vi faccio vedere, ecco qua, ecco qua, allora, quello che vedete è tutta quella spugna lì, è l'isolamento che adesso è diventato obbligatorio in America per tenere tantissimo e risparmiare l'energia, però qui vedete, ecco, la struttura è così, sono le studs a 16 pollici, che è tipico, da 6 pollici, quindi sono 6x2, che vuol dire 6x2 pollici, ma in realtà nominali, in realtà sono un pollice e mezzo per 5,5, è tutto calcolato perché poi col drywall diventa 6 pollici, quindi mezzo pollice, mezzo pollice, per gli interni, invece per gli esterni, dall'altra parte c'è lo sheeting, lo sheeting è il plywood, quindi il compensato, e dopo sul compensato viene attaccato il verticale in bianco che avete visto, quindi questa è la tipica costruzione americana, così sono fatte anche tutte quelle cose di Diasem, di Richard Mayer, le prime case, che però non, diciamo, la cosa che ha fatto scappò in America perché sono riusciti a fare quelle creature moderne con questa tecnica in teoria, non in teoria, con questa tecnica, e dopo spiego la differenza che tutti, volgarmente diciamo si dice, no volgarmente, si riferisce ancora la costruzione come balloon frame, in realtà ci sono due tipi, c'è la balloon frame e platform frame, allora, strutturalmente cambia completamente, visivamente non cambia niente, strutturalmente cambia totalmente, adesso faccio vedere, questa è la platform frame, il balloon frame invece c'era prima, adesso vi spiego, questa qui è una foto mia, questa è la scala provvisoria, ma fa vedere come tutte le cose sono fatte di legno, quindi i soffitti, come si chiamano le solette, i muri, ecco questi qui, questi qui sono due dei contractor, qui vedete dentro una struttura di legno questa trave gigante di ferro è per avere la luce delle porte che si aprono, questo qui è chiuso adesso perché era inverno in questa foto, la cosa interessante è anche che prende l'acqua, quindi quando piove, perché non c'è ancora il tetto sopra, tutto questo legno è fuori, quindi lì a New York piove tantissimo, quindi quando piove si bagna tutto, aspettano che si asciughe e poi ricominciano rovinissimo, però a vedere la prima volta mi dice, ma lasciatevi, si bagna tutto, e il questo è dentro, quindi vedete quando abbiamo messo il tetto, questa è la parte dell'entrata, quindi c'è il barcone, la doppia altezza, adesso poi vi spiego, questa è la scala di ferro, è solo attaccata con dei, diciamo, il ferro c'è solo quando veramente serve in alcuni punti, quindi in questo caso non sono più alta l'altezza, in questo punto è dove la scala si attacca dentro il muro, allora si verrà bisogno del ferro, anche dall'altra parte. Ecco, questo è bello perché appunto era quando le costruivamo, così vedete come sono fatte fuori, quindi prima di mettere tutte le perline, per se si possano dire, perline bianchi in verticale, che sono anche lì un altro dettaglio diverso da quello che si dice a shingle in orizzontale, per cui si mettono, con un giunto che si dice a overlap, quindi a sovrapposizione, invece questo schiuma dentro, poi dentro il cartone destro, e così è come si fostruisce. Lo vedete il timpano che era chiuso per questioni di condizioni atmosferiche. Ecco, vedete come passano gli impianti dentro. Una cosa che è assurda per me è vedere adesso le case in Italia fatte con le partizioni interne di mattoni, perché in effetti è una roba incredibile. Un po' dopo c'è la risposta, sto parlando con un amico un po' di tempo fa, c'è stata tutta la casa, molto bella, il muro della cucina, i mattoni porati e tutto, e gli dico ma scusa se vuoi muovere la cucina e cambiare? Vabbè, non la cambiamo. Ha ragione, c'è bisogno di cambiarla, però è una cosa incredibile. Qui passano i fili, si taglia, si cuce, tutto viene fatto. È benissimo anche vedere come viene fatto, perché si muove, diciamo, si costruisce abbastanza velocemente e in una maniera incredibile. Quindi c'è il carpentiere, che si chiama Carpenter, quello che può fare, il framer, si chiama Carpenter, che spara i chiodi con la pistola, quindi tutto inchiodato, quindi tutti questi sticchini sono tutti inchiodati in diagonale, uno con l'altro. Questo è un giunto di quel timpano prima che la casa venisse chiusa, quindi qui vedete lo spessore del tetto, queste palline orizzontali sono molto grosse, perché sono quelle che vanno in orizzontale tra le capriate, questa la capriata che si appoggia al cordolo di legno, che è di legno, quando si vede farlo, cioè il legno tiene tanto. Questo è un momento quando stiamo facendo router proofing con lo schermo di legno, questo è uno stickman, è un dipinto stickman, perché è tutto fatto con gli stick in America. Ecco qui vi dico come è la differenza tra il ballon frame e il platform frame, che sta solo nel giunto. Allora, questo qui è la casa ballon frame, quando le facevano di due piani, il verticale va fino al soffitto e il solaio si interseca sui verticali, che poi dopo si dice che la struttura di ferro mi svangerò, c'è un'ipotesi che si sia ispirato a queste cose, quindi il verticale continua attraverso sull'esterno davanti alla soletta. Questa qui è una casa vecchia con il ballon frame, qui vedete il ballon frame, era anche abbastanza complicato, in un certo senso è un giunto bellissimo, perché il verticale è tagliato per ricevere l'orizzontale, per ricevere questo orizzontale in fascia, e poi l'orizzontale della soletta è anche questo qui scanalato per incastrarsi sopra l'orizzontale in fascia, quindi è un sistema di incastro, semplicissimo ma anche semplicissimo. Grazie Grazie Grazie